Buongiorno a tutti, sono Manuel Lugli, responsabile marketing e informazione prodotto di Ortovox Italia, siamo qua per presentarvi alcune novità della stagione 18-19. Partiamo dalla pala Pro-Lite, la Pro-Lite è una nuova pala molto leggera che ha tutte però le caratteristiche dei prodotti Ortovox, alta qualità dei materiali e alta qualità della lavorazione. Abbiamo una benna che ha un volume leggermente più piccolo, sempre per il risparmio del peso, 2 litri e 100 di volume da sporto con alcuni fori che ne alleggeriscono appunto il peso, un manico telescopico per cui la pala diventa molto 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 piccola e sta perfettamente nei nostri zaini come in quasi tutti gli zaini che ci sono sul mercato. 440 grammi è un attrezzo da portare sempre con sé dentro lo zaino assieme alla sonda e all'arpa. La pala Pro-Lite ha un'altra caratteristica, è compatibile col manico della nostra pala più venduta, una delle migliori palle sul mercato che è la Pro-Alu 3. Il manico della Pro-Alu 3 è un po' più robusto, un pochino più con qualche particolare in più come il manico con grip e sempre manico telescopico e soprattutto il manico della Pro-Alu 3 ha la possibilità di inserire questo kit di emergenza che si può utilizzare in momenti appunto in cui è necessario avere una sicurezza in più, magari alla fine di una gita, il manico si trasforma in una piccozza di emergenza con becca forgiata e puntale sempre in alluminio forgiato con rinforzo in acciaio. Grazie a tutti!